Ha utilizzato il palco di quello che ha definito un piccolo miracolo per fare il punto della situazione sul quadro campano. Il commissario dell'autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, è stato ospite questa mattina al Gilfoni Film Festival, l'evento in provincia di Salerno che richiama l'attenzione dei cinefili di ogni parte d'Italia e del mondo. Durante l'incontro con i giurati, Cantone ha detto che il Film Festival è la prova che in realtà come questa e con l'impegno costante si possono fare piccoli miracoli. Le idee, ha proseguito il presidente dell'anticorruzione, sono capaci di creare piccoli miracoli e questo lo è. Io sono campano e conoscevo questa realtà, anche se è la prima volta che partecipo. Questo è un fiore all'occhiello per una regione con tantissimi problemi, ma anche tante potenzialità, le sue parole. A fare gli onori di casa, il sindaco di Giffoni, Antonio Giuliano, insieme al presidente del festival, Piero Rinaldi, e al direttore Claudio Gubitosi. Cantone ha sottolineato la necessità di dare ai giovani esempi concreti più che parole, ribadendo che nei territori dove più forte è la corruzione, maggiore è la fuga dei cervelli. Dunque, un tessuto sociale non inquinato è fondamentale per la crescita delle comunità e per l'autodeterminazione dei più giovani. Insomma, una vetrina straordinaria per il presidente dell'anticorruzione, che ha avuto modo di parlare ad una folta platea di ragazzi, con un occhio alla regione Campania. Il territorio è ad una svolta, detto Cantone, dalla rimozione delle coballi alla bonifica di Bagnoli. Sono segnali che, pur travolta da tantissimi problemi, la regione vuole dare un chiaro messaggio di ripartenza.